e buongiorno cercatori d'oro io sono matteo verto vi do il benvenuto il mio canale siete nuovi e invece bentornati siete dei miei amici da tempo mi raccomando per ogni dubbio domanda e propostità di scrivere qua sotto nei commenti e alla fine video se il video vi è piaciuto mi raccomando di mettere mi piace per me è un simbolo del vostro feedback è molto importante ora in questo video voglio parlare la parola più gettonata di novembre del 2020 il quale non è lockdown bensì è continuità perché parlo sempre benedettamente della continuità perché dovete sapere che anche se le paiuzze d'oro nell'interno dei sedimenti sono disperse e localmente concentrate in orizzonti auriferi è anche vero che la loro concentrazione varia nello spazio e di conseguenza magari subito dopo le curve dove trovate l'arricchimento aurifero detto punta aurifera bensì può essere che l'arricchimento non sia continuo questo problema viene riassunto nella parola continuità ed è un problema che si ripercuote su tantissime attività anche a scala industriale nelle quali sicuramente hanno delle spese fisse al mese alcune anche variabili logicamente sua base di quante ore lavoro macchinari ad esempio che si rompono che attrezzature che devono ripagare però soprattutto loro non hanno certezza della continuità del giacimento d'oro che stanno sfruttando questo il caso lo yukon in cui all'interno grazie ai sondaggi che hanno eseguito hanno una vaga idea di a quale profondità loro si trovi e in quale concentrazione logicamente sapendo la quantità media di oro per metro cubo sapendo i metri cubi che si possono ottenere dallo scavo e quindi andando lavare questi sedimenti attraverso gli impianti lavaggio è possibile estrarne parte dell'oro perché dico parte perché più sedimento lavate in fretta e soprattutto con tanta acqua e questi impianti lavaggi industriali capite che passano diverse centinaia di metri cubi all'oro e sedimento e più oro fine perderete in quei casi la ritenuta è circa del 60 70 per cento come ho detto già anche altri video a cui vi rimando ma soprattutto nel caso materiale siete fortunati perché lavando meno sedimento e in condizioni più performanti ne troverete anche più di oro anche il 90 95 per cento ricordate che loro trovate sempre e grazie al fatto che le paiuzze d'oro sono pesanti sono pesanti perché proprio l'elemento chimico oro è un elemento pesante e di conseguenza siamo intorno 19.3 grammi al centimetro cubo come densità questa densità vi permette di dividerlo abbastanza facilmente dagli altri granuli minerali i quali semplicemente essendo più leggeri verranno portati via dalla forza della corrente lungo i vostri strumenti come esempio la canaletta oppure grazie al saggio lavaggio al piatto tornando il discorso la continuità quando trovate un'ansa e grazie ai vostri calcoli riuscite a ragionare che all'interno di questa punta aurifera potrebbero esserci circa 30 40 grammi quando parlo di continuità si tratta del dire ma io al giorno quanto oro riesco a trovare c'è una continuità all'interno di questo deposito nel senso riesco a trovare mezzo grammo tutti i giorni in quanto questo è un problema abbastanza sormontabile in quanto le principali tecniche di ricerca vi danno un'indicazione di quanto oro può esserci all'interno i sedimenti ma non vi è mai certezza fin tanto che tutta l'operazione viene condotta significa che voi le paiuzze d'oro intorno al sedimento non potete saperne il numero e di conseguenza il peso a priori dovete escavare sedimento vi conviene setacciare il sedimento per far sì che il lavaggio venga condotto con cura parsimonia e pazienza sul restante setacciato e da questo è tacciato estrarre tutte le paiuzze presenti o almeno la maggior parte che potete solo a quel punto potete sapere che numero i paiuzze sono presenti in questo edimento e di conseguenza il peso ma non lo sapete a priori e di conseguenza questo dato lo avete a fine dei lavori questo vi crea una serie di problemi proprio legati alla continuità significa che voi nell'arco di un mese certo che avrete una quantità media giornaliera ma sempre questi dati arriveranno dopo i vostri lavori sempre post lavori questo è assolutamente un problema perché nel caso materiale sinceramente e di trovare più o meno oro ci interessa fino a un certo punto ma immaginate di condurre attività industriale come lo yukon dove è importante ed è l'unica entrata proprio la quantità d'oro che riuscite estrarre i sedimenti non avere idea di quanto orvi sia all'interno e soprattutto non è che non averne idea piuttosto non averne la certezza e alquanto difficoltoso dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista della sostenibilità quindi conclusione del video che cosa abbiamo imparato oggi abbiamo imparato che dal momento in cui voi cercate un deposito orifero ad esempio una punta orifera dovete sempre ragionare che a priori non sapete quanto oro vi possa essere interno sedimento vi serve quella che si dice in gergo prospezione la prospezione quella fase grazie alla quale è possibile comprendere quanto oro vi è all'interno delle ghiaie che state stacciando e successivamente lavando solo grazie alla prospezione quindi al campionamento di un esigua quantità di sedimento potete avere una vaga idea e di conseguenza verna stima di quanto oro abbia quella curva per esempio oppure quella punta orifera e quindi soprattutto capire e riuscire a limitare l'arricchimento maggiore ricordate che lungo la medesima punta orifera vi possono essere diversi arricchimenti ogni piena è in grado di produrre un nuovo arricchimento o più e di erodere quelli precedenti talvolta oppure di sotterrarli si creano i cosiddetti orizzonti auriferi ogni piena riesce a creare un orizzonte aurifero ma soprattutto questo orizzonte loro che l'interno non si genera nulla deriva bensì dall'erosione dei sedimenti già presenti oppure di quelli appena erosi dalla piena capite quindi quanto cerca del loro su un argomento complesso ma alquanto interessante dal punto di vista scientifico vi sono molti numeri dovete pensare che è importante capire la concentrazione dell'oro ad esempio quante paiozze avete trovato dal nome paiozze potete derivare anche il peso una stima già sul terreno oppure utilizzare un bilancino per comprendere quanto oro stai trovando e rapportarlo al volume di sedimenti che avete lavorato in arco aggiornata riuscite quindi a ottenere un numero detto concentrazione o tenore e questo vi indicherà la continuità cioè riuscirete nell'arco magari di 10 20 uscite a mantenere un tenore mezzo grammo al giorno vuol dire che quel deposito ha una continuità elevata e di conseguenza contiene non dico tanto oro bensì riesce a donarvi sempre almeno quella quantità di oro giornalmente io colgo quindi l'occasione per salutarvi vi ringrazio di aver visto questo video mi raccomando di mettere mi piace se il contenuto vi è piaciuto e se aveste domande di scriverle qua sotto io vi risponderò il prima possibile ciao cercatori ciao 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 ciao